nel video precedente eccolo ciao a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video più Mirko e Riccardo oggi siamo in un nuovo video della nostra carriera di FIFA speriamo di no vabbè come avevamo detto andremo a giocare prima la partita con il Southampton Liverpool Southampton la formazione alla solida speriamo bene e perciò andiamo a giocare sotto la pioggia inizia sotto la pioggia arrogante del Maracanà lì vengono c'è stato fatto la roba Sterling se te la mani lo ha fatto con Sterling e Suarez ha fatto la campione primo gol di Sterling il campionale il Sterling cari star Suarez oddio Suarez contro Boru parte Suarez Suarez Boru mi spiega insomma il ma se non c'è no ma non scuola studiare controllo fatto ho fatto una parola la città c'è un saluto su azze suor cascino passato spetta spetta il non è molto scuola non mi sono scoppiato per sé per me sto per ora su porco su rimessa da fondo campo generale a cd se il primo tempo gioco un a zero libercule gesticlietti di passare a votare ricorda andiamo a giocare tiro non posso basso bene madonna ho già visto dentro se pareggiamo pure questi che ci fanno fuori e intragastor Ramirez con il piede rotto lo voglio far con me oddio, sembra sterling sterling tutto dritto macchinetta sterling 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 il cazzo ha parato il cavolo ha parato ecco ecco però tornati johnson sterling che cazzo sta succedendo? dov'è schiurtel? oddio oddio giuki no dai butta la non devi fare le pallacce 85 siamo assoprissati oddio entra gallagher 18 anni e 10 tetto che soffre rossi in mezzo oddio mamma ma che cazzo c'entra valguena sarà il nostro giocatore il nostro prossimo club gerard oh la recupera la 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 gerard gerard suarez sorry suarez dai gerard non è quanto stava davvero bravo continuo continuo ma gerard dai dai porca dai 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 oh dai dai oh no oh 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 sto a ritrovare oddio oh dai e forse questa la scossa 5 tiri 5 tutti importa 0 2 pezzo dampton Luke Shora verrà da noi Leverton il nostro rivale vince il Chelsea con il Fulham la Stomilla pari ok adesso intanto dobbiamo andare a giocare la partita di Capitano One Cup contro il Barney Barley Flanagher per Johnson andiamo a giocare la partita di Barney però prima facciamo la formazione ok ragazzi questa è la formazione Mignolet, Flanagher, Skirt, Lager, Jose Enrique Lucas Leva, Allen da fare da Cdc poi Moses e Henderson a fare gli sterri poi inedito Luis Alberto, Diego, Aspas siamo tutti giocatori ovviamente per il campionato perché via zona abbastanza critica anche se però io la Coppa la voglio vincere soprattutto la FK ma anche se la anche se dovessi augurare la Capitano One Cup sarebbe inizialato quindi ok si parte al Barney Stadium di Los Angeles Barney di Los Angeles 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 suor ecco perché c'è il primo tempo sanzione il periodo di roma c'è un po' l'intensore inizia il secondo tempo di bar mi chiuso c'è la città non è il limite, per non farle, un tiro bello biondo, per non farle il limite. Tirooo! Morca miseria! Vista binti, vabbia! Vista alberto! 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 Oh! La palla rimane negli Anderson! Oh! John Anderson! Tiro! John Anderson! Ritato alberto! Vista alberto! Sì, no! Vista alberto! C'è 3 V발one! Colpisci a che ora ha? Sino, not, con sé dal removinga.. 2.0 Ero toño specified vic! V度c! V Rich, tu mkl. M consultati! Vici per fare una wette.. sembra quello di realizzare per me.. Vici per fare! Ho? Vici per fare! la vita troppo scemi come per la mia nonna non si può fare 3 a 0 al proprio stadium libero 3 a 0 si sapeva che il liverpool dove ha vincito questa partita abbiamo preso il ritmo vediamo che il token ha pareggiato 2 con lo suonzi e basta sto dentro 1-1 con quest m e andiamo a vedere l'isaberto ringrazio ora c'è l'ultima partita per oggi contro il sandrall confrenza stampa parliamo bene parliamo bene del liverpool ok ragazzi riccardo è dovuto andare via meglio così perciò adesso stiamo eh no seriamente meglio così perchè siamo cerni non dobbiamo passerci sempre giù vabbè parti scherzi ok andiamo a vedere contro chi sono capitati nel caso contro il wigan che viene presso alla vittoria di fk lì si non ha ziononone non ha ziononone si perchè si muovo così pochi oh ma si muovo che sta che cazzo ai quarti no nemmeno 3 squadroni ah ma chi devo che entra ancora il video ma il primo torno il sito è uscito il caccia sarà un bel comunque andiamo a giocare questa partita contro il sanderland e io pure voglio giocare ok no aspetta aspetta o l'oglio rosso formazione alla solita andiamo a giocare contro il sanderland all'est point arena inizia sanderland libero all'est arena la suarez oddio scelai sterling suare cosa ha preso madonna calcitando mezzo di st giortano il ragazzo sto scuola 100 scuola scuola soffrono licep partita rivoluzione giusto qualche tira da parte del livello per il resto del mondo 0 di rialzando olive partizione stardeggi prossimo tira al limite tiro parata quel giorno Manco l'entrata! Con il gioco! E poi manco era fuori gioco che stava fuori dal campo! Suarezza! Quale è buono? In mezzo! Suarezza! Stareggi non uscire! Non entra a sto pallone! Starelli che prossimo! In mezzo! Fallo, vacci unizione! Buono! Vado così! E' buono! Prossimo! Vado a stilogrammi per superare! Nezù! Ieri ocherrata! Adesso trova però non so se potrebbe dare una scossa alla partita ecco come si è sempre entrato però da me è venuto su Juarez oh mi sento su Juarez niente non c'è più affatto 0-0 passando a Radellino è più partita abbastanza noiosa non hanno fatto un tiro in porta non è possibile questa è quel che si ceva ma è già la difficoltà arrivate mattina che palle oh non ho fatto il tiro ho fatto otto tiri pareggia al city pareggia l'arsenal via con la sposta è deluso perchè non ha giocato il luogo sti cavolo colore pure si lamenta l'impegno si è due seghe quindi non deve rilamentare mi impegno bla 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 io andrei a vedere un'altra ma stagione poi andrei a vedere un'altra cosa il prossimo episodio vedrai da partire col Palace poi qui non ci sarà niente Newcastle e Westbrowich Albion e per poi basta però prima di chiudere vorrei vedere una cosa come stanno crescendo i giocatori Franaga è già più uno ha giocato due partite a titolare e poi Sako sta crescendo leggermente questa giacca la è ben normale Enderson cresce Sterling pure Grigno V1 Suarez P1 Porcheva Sterridge V1 Urius P1 Starridge a me mi è piaciuto che niente Allen P1 Mosis pure c'è un po' di più che è il nostro e poi resto tutti scarsoni c'è giusto Johnson che è rimasto così comunque nulla per questo episodio è tutto vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale a vedere il video precedente non l'avete visto pure l'episodio precedente per attendere il prossimo episodio andate a mettere mi piace alla pagina Facebook e nulla vi saluto qui Mirko Federico e pure Riccardo Bella ragazzi i 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